Intesa San Paolo ha rettificato delle false notizie diffuse negli scorsi giorni principalmente tramite i social network da un ex banchiere, in merito ai prestiti stanziati alle imprese nel decreto liquidità. Il provvedimento contiene delle nuove misure per l'accesso al credito e la proroga delle scadenze fiscali al 30 giugno 2020.I chiarimenti da parte di Intesa San Paolo si sono resi necessari perché le informazioni circolate nelle scorse settimane sono risultate in larga parte inesatte. Molto probabilmente l'interpretazione errata è stata determinata dalla complessità e dalla non immediatezza delle informazioni stesse, che richiedono istruzioni dettagliate per la loro lettura e applicazione. I commenti postati sui social avevano come obiettivo quello di aizzare gli utenti contro l'istituto bancario e contro le decisioni emanate dal governo diffondendo informazioni false e inesatte che confondono e seminano il malcontento tra le persone.Secondo l'ex bancario, Intesa San Paolo avrebbe applicato un tasso di interesse che si aggirava attorno all'8% ai finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese, dunque entro i 25.000 euro. Questa informazione è stata prontamente smentita dall'istituto bancario, il quale ha precisato che, in accordo con le attuali normative vigenti, il tasso di interesse sarà calcolato in modo rigoroso e sarà inferiore al 2%. Intesa San Paolo ha inoltre aggiunto che, proprio per fronteggiare questo momento di difficoltà, in cui sono coinvolti migliaia di cittadini, prevederà un'ulteriore e significativa riduzione degli interessi. Nel post diventato virale sui social si legge inoltre che un requisito fondamentale per avere accesso all'erogazione del prestito è quello di chiedere un incremento del 10% del debito già in essere. Così facendo le banche potrebbero utilizzare i nuovi finanziamenti garantiti a sostituzione dei crediti non garantiti per stabilizzare o incrementare i propri bilanci. Anche queste informazioni sono poi risultate false e l'istituto ne ha preso le distanze.